Da fastidio, io userei questo termine, da fastidio perdere partite così come è accaduto questa sera al Pescara. Perugia tre tiri in porta, tre gol. Sì, dispiace perdere, non siamo qui a ramaricarci per alcuni errori commessi, ma non posso dire niente ai ragazzi che ce l'hanno messa tutta. L'impegno c'è stata, la prestazione secondo me anche, è chiaro che nel calcio gli episodi poi cambiano le partite, non siamo usciti a portare dalla nostra parte, anche oggi secondo me c'è un episodio di dubbio sul maniero, però siamo molto sfortunati con gli arbitri quest'anno. Un possesso di palla schiacciante del Pescara 61% contro 39%, però è mancata la stoccata finale in avanti? Ripeto, io sono, insomma i ragazzi ci hanno messa tutta, l'ho offerto un'ottima gara secondo me, un'ottima prestazione dal punto di vista tecnico, è chiaro che nel calcio bisogna fare gol, quando gli avversari ti fanno gol e perdi, penso c'è poco da dire. Pescara che ha il miglior attacco del campionato, 24 reti, però il dato dice anche che i tre attaccanti centrali hanno segnato solo due reti fino ad oggi, e questo è un dato un po' difficile, probabilmente anche da spiegare, però è così, se non ci fosse stato Galano, se non ci fosse stato Macino, insomma il discorso sarebbe stato probabilmente diverso. Galano e Macino sono i nostri attaccanti, per cui i gol li fanno loro, sicuramente chi gioca come riferimento offensivo aiuta gli altri a fare gol, chi gioca davanti, Borrelli, Maniero, Brunori, fanno molto lavoro sporco, come si dice, e aiutano gli altri, è chiaro che qualche gol dagli attaccanti in più ce l'aspettiamo, ma insomma siamo fiduciosi. Qualche errore di troppo in difesa questa sera? Chiaro, quando subisci dei gol qualche errore c'è, ma non mi sento di condannare nessuno, sicuramente hanno offerto prestazioni importanti sempre, e ci sta di incappare in qualche errore. L'ultima, Pescara non può fare a meno di Palmiero, ha detto la partita di questa sera. Ma, secondo me Castano si ha fatto un'ottima gara, è un giocatore diverso da Palmiero, ma gli assenti secondo me non hanno mai ragione, Castano si ha offerto un'ottima prova, e ripeto, in alcuni episodi fossero andati in maniera diversa, saremmo più a parlare di qualcos'altro. Grazie a tutti.